Ho letto e riletto gli articoli di giornale, ma guardavo soprattutto le fotografie. Tutti dicono che ci assomigliamo, non lo so. Sei la faccia di qualcuno, forse sei l'unico che non se ne accorge. Anch'io sono riservato, in poche parole. Forse ci saremmo guardati molti e saremmo scoppiati a ridere. Forse avremmo litigato. Forse mi avrebbe insegnato a parlare l'inglese e il francese bene come lui. Mia madre mi raccontava che lui per la gente era come uno di famiglia, che lui era un signore con tutti. Mi tenevo al sellino e ho imparato ad andare in bicicletta. Un attimo, un ricordo veloce. Avevo meno di quattro anni, la sua mano era sul sellino. E poi, all'improvviso, andavo da solo. Grazie. Grazie.